Oh, un altro terremoto! Spero che Polly e Laila abbiano trovato dell'altra pochite sull'altro versante dell'isola. Grazie dell'aiuto, Rahim! Sono felice che questa pochite sia finita in un posto così divertente! Insomma, dai! Una pigliata! Questa avventura sarà grandiosa! No, Bucanede! È il compleanno di tuo fratello, perciò sarà lui a rompere la pignatta! Venite tutti qui, forza! Ora diamo il via al gioco della pignatta! Chiudiamo gli occhi e poi giriamo su noi stessi, avete capito? La pochite! Proprio come nel mio libro preferito! Il medaglione perduto di Luxworth! Possiamo aggiustarla! È una buona idea! Allora... Eh... Shani! Era una festa tra pinguini del tutto pacifica, con una bellissima pignatta pochite! Si è rotta troppo presto... L'interruzione dolce e amara di un gioioso e allegro compleanno! Ehm... Ti dispiacerebbe passare alla parte in cui sei alla ricerca di indizi? Non preoccuparti, mamma pinguino! Ci stiamo lavorando! Un indizio! O una serie di indizi! Questo ladro è debole per i dolci! Ehm... Mi sembra evidente! Ehi! Aspetta! Ma certo! I panda rossi adorano il miele! Ehm... Che cos'è dolce come il miele? Le caramelle! Traduci panda rosso! Dove ti trovavi durante la festa? Hai fatto un pisolino e uno spuntino? Il sospettato è colpevole solo di aver passato una bella giornata! Un vicolo cieco! Oh... Vorrei che ci fosse qualcuno da cui andare che... Sa tutto! Già! Chi è che sa sempre tutto? Le mamme! Sembrava che tutti si stessero divertendo! Tranquillo, Bucaneve! La mamma sta parlando con dei nuovi amici! Scusate, a Bucaneve servono più attenzioni quando il fratellino compie gli anni, sapete? Ehi, Bucaneve! Ehi, Bucaneve! Quella sul tuo dorso è una caramella! Aspetta! Torna indietro! Vieni qui! Vieni qui! Siamo giunti al capolinea! Finirai dritto in castigo! Ora sei tu a essere geloso di tuo fratello che è in punizione! Un altro caso risolto! Facile come rubare le caramelle da un pinguino! Aspetta! 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 Grazie a tutti.